Presidente Tommaso Lanci, ripartire è dura, però un obiettivo solo, tornare immediatamente in a due. Beh, io penso, noi stiamo ancora con la spiena piegata dalla botta, dalla batossa che abbiamo preso l'anno scorso. E quanto fa male? Lo so, fa male. Fa male sì perché noi eravamo convinti, ma la decisione più grande è il fatto che eravamo convinti di aver messo su una squadra competitiva che potesse stare alla pari con le altre. E l'ha dimostrato nel girone del ritorno, solo che nei momenti topici del campionato abbiamo fallito. Lasciamo stare il passato, pensiamo al futuro che è meglio. Quest'anno io penso che avete letto un po' tutti gli acquisti che abbiamo fatto e quindi già delle persone che abbiamo chiamato per venire a darci una mano per questo campionato si può capire che la nostra non aveva un'intenzione di restare in A3, ma è quella di tornare subito in A2 nel giro di quest'anno. La dimostrazione è il fatto che abbiamo chiamato a giocare con noi un giocatore di fama, dico nazionale, ma per dire anche qualcosa di più, come Marshall. Come Marshall, quindi voi sapete che ha fatto, anche se è con un'età ancora avanzata, l'anno scorso è stato il miglior giocatore del campionato dove ha giocato. Presidente, diciamoci tutta la verità, è una gran bella squadra, competitiva, forte, attrezzata per risalire in A2. Un punto interrogativo soltanto, se lo chiedono tutti, la panchina. Qualcuno diceva un po' corta. La panchina, vede, purtroppo non c'era una grande scelta, perché? Non creda che si siamo fermati davanti al fatto di poter prendere o spendere qualcosa in più per poter avere una formazione fortissima, ma tantissime persone hanno rinunciato di venire a giocare in A3. I giocatori di categoria dell'A2 si accontentano di stare in A2 seduti in banchina per non venire a giocare con noi in A3. Beh, signori belli, le scelte sono loro e non nostre, quindi noi ci siamo andati a prendere i giocatori che pensavamo che giovanissimi, però con delle prospettive molto buone, che avevano dimostrato di fare bene nei campionati dell'anno scorso, e sono venuti a giocare con noi. Ragazzi accogliamo la chance di potersi dimostrare in un contesto di Serie A.